Diplopia, l'immagine fotografica nell'era dei media globalizzati, saggio sull'11 settembre 2001. Questo libro è un libro scritto da Clément Cheroux. Chi è Clément Cheroux? Clément Cheroux è uno storico della fotografia ma è anche un curatore, un curatore che si occupa attualmente di gestire il fondo fotografico del MoMA di New York. L'edizione italiana del libro è stata tradotta da Rinaldo Censi e l'editore di questo bellissimo volume è Enaudi. Soffermiamoci un attimo sul titolo. Diplopia. Che cos'è la diplopia? La diplopia è sostanzialmente un difetto fisico, fisiologico e vuol dire sostanzialmente vedere doppio. Perché vedere doppio? Perché c'è qualcosa che si sovrappone a qualcos'altro? Cosa sono le immagini che si rincorrono e si ripetono all'interno delle rappresentazioni dell'11 settembre? Per rispondere a queste domande Cheroux si è concentrato su un corpus di immagini molto preciso, ovvero sia le immagini fotografiche che accompagnavano i quotidiani americani statunitensi all'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Quindi un corpus fotografico composto da un gran numero di giornali, circa 400, ma soltanto, ci dice Cheroux, otto immagini tipo per un totale di 30 fotografie. Quindi perché ci sono state così poche immagini di fronte a un evento così tanto mediatizzato, così tanto reso visibile? Cheroux utilizza il concetto di diplopia, quindi di vedere doppio. E il vedere doppio significa sostanzialmente per Cheroux ripetersi, il ripetersi delle immagini e il ritornare delle immagini. Perché le immagini si ripetono? Facciamo un esempio. Una delle immagini più rappresentate, più utilizzate dai quotidiani statunitensi tra l'11 e il 12 settembre 2001 è la famosa immagine delle torri in fiamme, che sono, come tutti ricordiamo, che sono state colpite dai due aerei di linea. Le immagini dell'11 settembre 2001 non si ripetono soltanto, ma ritornano. E che cos'è che ritorna? Per spiegare l'effetto di ritorno, Clément Cheroux si concentra su un altro momento importante, quello conclusivo della tragedia dell'11 settembre. Momento immortalato dalla fotografia di Thomas Franklin, Ground Zero Spirit. In questa foto vediamo i pompieri che issano la bandiera americana, la bandiera a stelle strisce, sulle macerie delle torri gemelle. Che cos'è che ritorna in questa fotografia? Ritorna un altro celebre scatto, anch'esso di guerra, che collega direttamente l'11 settembre alla seconda guerra mondiale. Stiamo parlando dello scatto di Joe Rosenthal, in cui sei marini issano nuovamente, ancora una volta, la bandiera americana sul monte Sauribaci, nell'isola di Yojima. E lo fanno come gesto di conquista all'indomani dell'attacco giapponese Upper Harbor. Che cosa succede quindi in questo ritorno? Succede che un gesto di conquista, quello dei marins americani, si trasforma in un gesto di riappropriazione, di riinizio da parte degli americani stessi all'indomani di un attacco terroristico. Ebbene quindi per Cheroux, questo effetto diplopico scatenato dalle immagini mediatiche dell'11 settembre, è qualcosa che ha inciso profondamente nell'immaginario e nella cultura di tutto il ventunesimo secolo. E quindi un libro, quello di Cheroux, utile da leggere, utile da osservare, per comprendere non soltanto come è stato rappresentato e raccontato l'11 settembre 2001, ma anche per imparare a guardare meglio le immagini mediatiche che affollano il nostro orizzonte visivo.